Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo queste piccole pastiglie di aromaterapia fai da te. Sono pastiglie di bicarbonato e essenze come ad esempio il timo o l'eucalipto che una volta buttate sotto l'acqua calda si sciolgono e ovviamente le essenze vi aiutano a liberare il naso e a dare un po' di sollievo alla gola. Gli ingredienti sono del bicarbonato, dell'amido di mais, dell'essenza di eucalipto, di lavanda e di timo, un po' d'acqua, dei cucchiai per misurare le dosi e degli stampini di silicone oppure dei pirottini di carta. Per ottenere circa 6-8 pastiglie effervescenti dovrete utilizzare 250 g di bicarbonato, un cucchiaino di amido di mais, 50 ml d'acqua, 7 gocce di ogni olio essenziale che volete utilizzare e 2-3 gocce di colorante alimentare se volete. Innanzitutto versate metà del bicarbonato in una ciotola, poi aggiungete il cucchiaio di amido di mais. Mescolateli bene insieme e aggiungete i vostri 50 ml d'acqua. Mescolate molto velocemente così il bicarbonato non si scioglierà completamente nell'acqua. Ora aggiungete l'altra metà della dose di bicarbonato. L'impasto deve raggiungere una consistenza abbastanza spessa, quindi piuttosto se vi accorgete che è molto liquido continuate ad aggiungere bicarbonato. Ora è il momento di aggiungere 7 gocce per ogni essenza che volete utilizzare e io ho aggiunto l'essenza di eucalipto, quella di timo e quella di lavanda. Mescolate bene il composto e poi se volete potete aggiungere qualche goccia di colorante alimentare e io ho utilizzato il blu. Ora potete versare il composto negli stampi e come al solito quelli di silicone sono i migliori perché è molto più facile tirare fuori le pastiglie una volta che si asciugano. Devo dire la verità questo impasto l'ho fatto un po' troppo liquido quindi voi cercate di aggiungere un po' più di bicarbonato in maniera da renderlo un pochino più spesso. Lasciate asciugare le pastiglie per una notte e poi sono pronte per essere tolte dallo stampo. Come al solito io ho anche realizzato l'etichetta che potete scaricare sul mio blog e vi lascerò il link qui sul video e in descrizione. Quindi semplicemente se vi ammalate e sentite che avete il naso un po' chiuso o avete male alla gola buttate una di queste pastiglie sotto l'acqua calda mentre entrate in doccia e vi assicuro che vi sentirete subito meglio specialmente il naso lo sentirete molto più libero. Quindi come al solito se anche voi realizzate queste pastiglie non dimenticatevi di mandarmi le vostre foto su Facebook oppure taggatemi su Twitter o Instagram o usate l'hashtag SerenaLoserLikeMe così vi includerò nel mio prossimo video. Per oggi questo era tutto, io vi mando un bacione e spero che nessuno di voi si prenda l'influenza. A presto, ciao ciao! Ciao!